Torino, Caramò rinnova la nota del club e il Torino Football Club è lieto di annunciare che ha rinnovato il contratto per le esibizioni sportive del calciatore Jan Caramò fino al 30 giugno 2025. Caramò è arrivato a Toro nel settembre 2022 dopo alcune esperienze Italia e all'estero. È cresciuto nel calcio RC France Cannes, ha completato la sua carriera giovanile Inter, la squadra con cui ha fatto il suo debutto Serie A. Dopo una breve esperienza a Bordeaux, tornato Italia per Parma con cui ha giocato 41 partite in due stagioni. Nel 2021 indossava la maglietta di Karagun Rook, allenandosi nella massima volo turca. Tra i ranghi della Granata, Caramò ha totalizzato 22 presenze tra Serie A e la Coppa Italiana. Segnando 5 gol l'ultimo gol è arrivato nella partita vittoriosa trasferta alla Spezia appena passato.